Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo la luce ultravioletta in mineralogia, l'applicazione della luce ultravioletta in mineralogia. Qui vediamo un aragonite, un minerale proveniente dalla Sicilia, illuminato con luce UV. E poi vi presentiamo un volume dedicato all'uminescenza nel regno minerale. È un volume importante, unico nel panorama italiano dove tratta la luce ultravioletta e i minerali, le applicazioni della luce ultravioletta con i minerali. Il libro è scritto da Guido Mazzoleni, dal geologo Guido Mazzoleni e le foto sono del fotografo Roberto Appiani. È un volume molto importante, molto bello, ricco di tante immagini molto curate e fatte bene. E come dicevamo prima, è un libro unico, non era mai stato fatto un lavoro così esaustivo dedicato alla fluorescenza, alla luminescenza dei minerali. Buona visione, al prossimo video. Grazie. Grazie. Grazie.